La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è finita per sempre? Dopo molteplici tira e molla, la modella ha preso una decisione drastica. Ecco cosa è successo. Wanda e Mauro sono da sempre una delle coppie più amate e seguite dai fan. Il loro amore continua a regalare scupe e dinamiche avvincenti, ma riusciranno mai a trovare la forza per prendere una decisione definitiva? A quanto pare questo momento sembrerebbe arrivato. I due hanno vissuto una storia d'amore da favola, e in un primo momento la costruzione della loro famiglia era quanto desiderato da entrambi. Wanda oltre ad essere la moglie del noto calciatore, è anche la sua gente. La coppia ha condiviso per questo successi familiari e professionali, unendo le forze. Wanda e Mauro, è finita per sempre? Lei prende una decisione? Da questo amore sono nati dei splendidi bambini, ma le incomprensioni hanno continuato negli anni a stravolgere la loro relazione. Wanda in questi anni ha dimostrato molteplici doti, vincendo anche un'edizione di ballando con le stelle. Molto presto la vedremo anche alla conduzione di Bake Off Argentina, una nuova e stimolante sfida. Nonostante i tempi duri e la lotta contro la leucemia, Wanda non molla la presa, la sua vita è ricca di successi clamorosi. Tra questi però, non è possibile inserire la storia con i cardi. Questo amore continua ad essere frastornato da molteplici tradimenti da parte di entrambi i lati. I due si amano molto e questa è sempre stata la motivazione che li ha spinti a perdonarsi tutte le volte. Ma adesso come stanno davvero le cose? Dal profilo social di Alessandro Rosica è spuntata una notizia che riguarda proprio Wanda e Mauro. A quanto pare questa volta la modella fa sul serio. Dopo ulteriori tradimenti e momenti tossici, è arrivato il momento di prendere la situazione in mano e ricorrere per vie legali. La coppia si separa in modo definitivo? Di sicuro questa scelta rappresenterà per i loro figli e per tutti i fan, un momento molto doloroso. C'è da riconoscere però che da anni ormai i due non riescono più a vivere questo matrimonio in modo sereno. Riuscirà Wanda a portare avanti questa sua scelta o si farà nuovamente prendere dai ricordi e dai sentimenti? Il loro amore ha affrontato tanti ostacoli, Mauro è stato vicino alla moglie nel momento della malattia e delle cure, spingendola a non mollare. Questo tipo di complicità difficilmente capita nella vita, ma basterà per spingerli a non separarsi? Wanda non smette di regalarci colpi di scena, di sicuro anche questa volta cambiamenti e nuove decisioni spunteranno improvvisamente tra le chiacchiere mediatiche.